Mi chiamo Alberto, sono un economista, faccio varie cose, adesso lavoro in un'impresa sociale che si chiama Edge Riders e faccio parte del consiglio direttivo di un'associazione che si chiama UIG Italia per il governo aperto. Il mio pezzettino di futuro è l'idea che le politiche pubbliche, non la politica, possano essere progettate e attuate abbastanza direttamente dai cittadini, come se il territorio fosse una specie di wiki in cui, fatte salve alcune garanzie, le persone invece di unirsi per proporre al governo di fare qualcosa, sperimentino direttamente a fare qualcosa e da lì poi si possa reiterare per vedere di fare crescere le cose che funzionano invece di cancellare le cose che non funzionano. Questa cosa detta così sembra rivoluzionaria e pericolosa, in realtà sono convinto anche sulla base di esperienze svolte in Italia e nel mondo, che in molti campi questa cosa sia direttamente attuabile con pochissimi costi, costi comunque nettamente inferiori a quelli della decisione pubblica. Di fatto pensate per esempio a una pista ciclabile, uno può concepire l'idea che c'è una pista ciclabile da A, B, farsi dare una specie di permesso provvisore al sindaco, tirare un nastro colorato per terra e provare quella pista ciclabile per una settimana. Fa una valutazione, alla fine si ragiona e se è funzionato bene si tiene. Questo è un edit diretto, l'equivalente del tasto edit di Wikipedia e ha il grande vantaggio di semplificare radicalmente tutti i processi politici di decisione pubblica che sono molto lunghi, sono spesso soggetti a veti incrociati e alla fine non funzionano. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie.